benvenuti in un nuovo video sono sempre con mia sorella allora oggi andremo a provare dei snack americani ho deciso di farlo con lei questo video così da renderlo un po più sfizioso e un po anche più chiacchiericcio perché comunque da come potete vedere i prodotti non sono proprio tantissimi e niente quindi se questo video comunque vi sta piacendo e questa tipologia vi sta piacendo insieme a lei mi raccomando lasciate un pollice su e se vi vai iscrivetevi al canale vai inizia tu con cosa vuoi iniziare l'espressione allora questi qua sono gli amerems salted caramel eccolo qua vai a te lo ridiamo ecco 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 Ma gli arachidi non c'è, gli arachidi non c'è. Non lo so, sono solo che si... Aspettate. Vedi? No, ci sono. No, e il canamello è salato. Questo canamello... Infatti si rompe. Sono sfiziosi. No, si sente. Salato. Sì, secondo sì. Buono. Mi piace. C'è una bancarella. Nel centro commerciale. Vulcano buono. Sì. Divente, vedi dopo, amico mio. Che vuoi dire, dai? Mi sono piaciuti. Sì. Quindi... Sette. Oppure io sette perché sono particolare. Sì. Sono buone. Scroie. Mi sembra normale. Non so perché... Perché questo caramello non è che si scioglie. Salzetta. Ma è tipo... Salzetta. Sì. Vado io? Ragazzi, questi. Ragazzi, questi. Ragazzi, è un deludito. No, ragazzi, perché vabbè. Io so che questi, quindi, mi deludono. Sono della Kombos. 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 Penso che è alette di bollo. C'è scritto. No. Buffalo Blue Cheese. Eh. Ah, stai. E' quello che fa. No. Sta di colla a biravilla. Mi guarda. Ti guarda. Ti guarda. Guarda che è strano. Aspetta, però. Ma io non ci posso credere. Aspettate che abbiamo veduto, papi. non lo devo capire cosa? non buone ma non so piccanti si ma infatti è però dopo si sente però attorno è tipo prezzel si raga guardate qua c'è una punta arancione no come sono buoni no sai perché? perché sono piccanti mi piacciono allora io gli do 6 6 e mezzo lo sapete perché pecca? perché c'è sta nota troppo piccante che ti domina la bocca però se non mi era buono si sarebbe stato ottimo buono raga comunque rimane un sapore imboccato strano è piccante vai a te l'onore proseguiamo col salato si attenta a cosa prendiamo subito perché? perché? vedi se uno di questi è piccanti questo? non lo so se sono pizza no ma pizza dai ok nei nostri bel bicchieri vai allora queste sono della hers deep dash pizza deep dish deep dish un pacchetto di questo ha solo 168 calorie per tante cose no secondo i quali li fanno ok stanno a sprecare non mi dice che sono pote solo che si due però sono belle proprio sono enormi io voglio provare quelli là un fendorano prego ma è stato un po' sul lungo sono come un ossio che sa di pizza? questo? non male buone ma sono freschi no buone buone queste si queste si mi piacciono queste si mmm 8 però no non mi piacciono queste no io non la so non mi capo no non so di pizza un rigano tipo eh beh a parte che c'è il rigano sicuro eh quindi si si il mio voto è 8 pura meno ok voglio concludere questo lato si tipo abbiamo spezzato qualcosa di dolce poi dici te o sia spezzato no no è l'ultimo penso allora questa è quella barretta della Hershey's gold tu hai mai provato una barretta del gel? no mai pinut e prezzo questa non è buona spero è un duro da raggi è un duro da raggi va si vai si vai buona che ammazza mamma mia va a finire tutto buonissimo ti senti proprio un pezzo di sale però non è quella cosa che disgusta non è riuscata è pure di prenderlo mmm però è buoncantezza 10 adoro 9 e mezzo 9 e mezzo troppo buone buone perché non non ti dico no perché non è il doppio che è una cosa doppia tipo prendi tipo ne facciamo la differenza con le nostre barrette tipo Milka no? la Milka è non te ne andare avanti per favore cioè la Milka è proprio spessa quindi pure se devo due pezzi due tre cosa buone no che è sottile infatti potete spezzare andiamo con un altro di salato che è della hers sempre la stessa cheese cheese voi c'è una volta questo quanto è meglio questo? buono cheese occhio è sceso con questo video si è sceso con questo video ma non può batterla no vabbè sta con le bocchie più quello che si è piaciuto come le nostre è un marco quelle sono più buone chiaro che potreste sei in mezzo sei non so niente di peggio in realtà c'era anche quella cosa dice oddio e mi nega aspettavo uno per è cioè trovo qualcosa no questo pure si ok lo ho sì che c'è dietro? questo allora questi qua sono i migliori ricoperti di cioccolato ti presentano per quanto? delle confezioni ce ne sono due invece danno i quattro non ne sono due ce la faccio una a te che carini sono così però subito si scioglie la cioccolata infatti questa è notata si si aspettavolo wow mi piace però non ci sei realizzato il cioccolato fuori? no provate quanto è bello pezzo al cioccolato bianco buono questo ci fa indietro bene mmm cioè questi ne stanno per forza in frigo si buono buono perché senti sia l'oreo che sia la cioccolata però non è bello buono buono io non è cioè tipo non è un sapore nuovo cioè non è proprio quella cosa nuova dicevo marronami sette per me per me non supera la quantità della barretta non supera la quantità della barretta perché la barretta è quella cosa particolare quella cosa nuova che dici oddio la trovo solo là ma più questi c'è il sapore non è che ti cambia la vita no però sono buoni molto molto buoni io ho paura di questi sono i pop tarts a torte di compleanno gelato va bene eccoli qua allora questi vanno riscaldati infatti ora uno ce lo mettiamo così poi lo proviamo ok proprio proprio se tipo che vanno in forno questi però c'è comunque non lo so sapere non lo so sapere non lo so sapere non lo so sapere che vuole la faccia che mi sto toccando con mano veramente che vuole la faccia che mi sto toccando con mano veramente non lo so no 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 però dentro di pelo io spero che si vede non so come devo mettere che non vedo va non so se si vede però io penso che si vede che si sia visto qualcosa nooo 3, 2, 1 non so che mi ricorda non so che mi ricorda è interdelisso si 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 oppure no non hai capito si un delizio mamma se non c'era caldi si si scioglie tutto buono però hai po' la forma che cacchia però è un po' pesantino no no che cosa mi piace è diverso vediamo proprio pesante mi piace questo è diverso un po' pesante mi piace non muocherà per il artist io un bel 8 e mezzo io lo do mi piace spagna non me ne hanno tanto questi sapori non è che uo' mezza tipo di cioccolato e macchamelo 6 e mezza ma e dagli un 8 dai un sette questi po' ci sta ragazzi e quindi niente, quindi fatemi sapere se questi video così anche di snack americani vi possono piacere così noi mangiamo, vi vedete e quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi vi mandiamo un grande bacio ciao